Il Gela si impone nell'amichevole con la Nissa al Vincenzo Presti 1-0. Decide un gol di Davide Ascia con un tiro a giro sul quale nulla può l'estremo difensore biancoscudato Chimenti. Per la squadra nissena un'occasione per provare schemi e soluzioni tattiche in vista del primo impegno di Coppa Italia, programmato il 28 agosto ancora a Gela con un'altra squadra della città del Golfo, il Gela FC. Prima di quella data, sabato, un altro test amichevole al Nicola De Simone di Siracusa con la massima espressione calcistica locale, una società che punta al ritorno nel campionato di Serie D. Le dichiarazioni dell'allenatore Alessandro Settineri al termine dell'impegno con il Gela sulla pagina social biancoscudata. È stato un buon test con una squadra che ha avuto una grande intensità, però ho variato, ho sperimentato perché credo sia giusto in questo momento valutare tante situazioni, valutare a pieno regime l'organico in modo tale che se eventualmente c'è da fare qualche cosa lo si fa in tempo utile. Se qualcuno non si integra bene a questo progetto probabilmente c'è il tempo per correggere la tipologia di calciatori. Per cui, ripeto, un test validissimo. Sapevamo che saremmo stati carichi di lavoro, ma era preventivato. Però ho tante indicazioni. Le cose brutte sono sicuramente il fatto della frenesia, di dover arrivare in porta e fare gol il primo possibile. Una squadra matura, ma non siamo noi perché stiamo crescendo nel nostro percorso, deve imparare ad avere pazienza. Noi invece tante giocate le abbiamo forzate, siamo arrivati tante volte dentro con molta superbia da questo punto di vista. E non serve. Per quanto riguarda le cose belle abbiamo un'identità. Un calcio che credo sia piacevole a vedere, che ha dei rischi, però bisogna lavorarci, essere convinti di quello che si fa. E devo dire che i ragazzi si applicano al massimo delle proprie forze. Come avete visto, 3-4 dopo qualche minuto mi hanno anche chiesto il cambio perché probabilmente non riuscivano. Però, ripeto, è giusto così. Bisogna faticare per ottenere risultati. Chi non fatica difficilmente, chi vive di ozio difficilmente riesce a ottenere risultati. Però è un gruppo che lavora e quindi sicuramente faremo buone cose.